E poi siccome nel 44, era poi del 44, era poi là in settembre del 44 che io sono andata là, che sono andata a Como, io sono partita da Marola, io e una mia amica, siamo andate a Milano a piedi. Un giorno siamo arrivati a Pacenza, l'altro giorno siamo arrivati a Milano. E siamo andate a trovare mio fratello perché non si sapeva più niente, non arrivava la posta su, che io poi ogni tanto portavo su anche la posta quando venivo a Reggio per i miei lavori, portavo anche la posta di Marola. Allora siamo arrivati, allora i miei genitori hanno detto, ma Dio ma Milano è tanto lontano. Niente, siamo partiti a piedi da Marola, siamo arrivati a Milano, in due giorni. Dopo siamo andati a Milano e invece abbiamo preso il treno e siamo andati a Como. Poi lì è stata una bella cosa perché eravamo sul treno, un signore ci ha chiesto dove andavamo e abbiamo detto che andavamo a cercare i nostri fratelli perché tanto che non scrivevano, non sapevamo niente. Ma noi andavamo anche con l'intenzione di dire che dovevano scappare perché quei periodi, fra i rastrellamenti e fra che portavano via gli ebrei, portavano via tutti chi trovavano, specialmente quei ragazzi lì, portavano tutti in Germania. Allora lui ha detto, ma dove dormite? In stazione, la chiudono, dormiremo in rifugio, non ci sono i rifugi a Como perché è una città libera che non ci bombardano. Chissà cosa avremmo pensato, avremmo detto niente noi perché cosa dovevamo dire. E allora lui ha detto niente, poi ha detto venite con me. Poi ci ha fatto il biglietto per prendere il traghetto, è stato guarda di una persona, un angelo proprio, che ci ha fatto tutto l'itinerario per andare proprio dall'altra parte da Como, proprio in fondo a Pizzo di Trono, proprio i confini, non so neanche dove finiva il lago secondo me. E allora lui ci ha portato vicino a un bel cancello suonato, è venuta una suora, ci ha detto dovete dare ospitalità a queste due ragazze che vanno a cercare i suoi fratelli militari. E loro poverete ci hanno dato da dormire e poi dice domattina devono essere alle 8 là al battello così. Infatti loro sono state carinissime, ci hanno fatto prendere il battello la mattina alle 8. e siamo arrivati a mezzogiorno nel paese dove c'era, cioè il battello magari andava piano, e poi tutti questi paesini, siamo arrivati a mezzogiorno e tornavano proprio da un rastrellamento i militari. erano sui, i fascisti non so neanche, Repubblichini si chiamavano, come si chiamavano Repubblichini allora. Quando siamo stati là, c'erano tutti, non c'era mio fratello. Io ero disperata, ho detto ma dove è mio fratello, io nella mia testa pensavo già che l'avessero ammazzata in montagna. Invece no, mio fratello non andava ai rastrellamenti, lui faceva il calzolaio, un magazziniere, facevo qualcosa pur di non andare fuori con i militari. Lui faceva tutto di lavoro, ma niente, l'ho trovata e stava bene. E allora le dicevo, guarda, dovete venire a casa, perché ci sono i partigiani, poi vi ammazzano, o che vi ammazzano qui o che vi ammazzano là, perché dopo vi considerano della gente che avete fatto del male, insomma, dovete venire a casa. E allora erano talmente impauriti, si vede che le facevano un po' il lavaggio del cervello, questi dovevano fare i cattivi. Dovevano prendere magari della gente, non so, dovevano fare ammazzare della gente, non so cosa dovevano fare questi ragazzi. Erano impauriti. Poi, niente, dice, non potiamo scappare, come facciamo a scappare? E' finita così, noi siamo venuti a casa. Poi li hanno portati a cento di Ferrara, per fortuna, siete che avevano più bisogno di militari qui giù, li hanno portati a cento. Allora così, qui, ho preso una bicicletta piena di vestiti, sono andata a portarci i vestiti, e da lì poi è riuscito a scappare, sono scappati tutti i ragazzi di Marola, erano sei. Sono riusciti a venire a casa. Scappavano due per volta, si vestivano da borghese, e poi scappavano, sempre di notte anche loro, perché si viaggiava sempre di notte, perché o tedeschi, o fascisti, o questo e quest'altro, ti trovavano, ti prendevano.